Sicuramente sono stati due test importanti, ci permettono di allenarci e di iniziare a provare le cose in campo. Non ho un modulo preferito, diciamo che sono più le idee e i concetti che uno sposa dove si può trovare meglio o peggio, ma in questo caso io mi trovo bene. L'idea è quella di essere sempre aggressivi, di andare in avanti. Sono concetti che a me piacciono e penso che li porteremo avanti nel corso della stagione. Sì, sì, sicuramente sono molto contento di essere tornato e spero di poter dare ancora tanto a questa maglia e società. C'è un ambiente piacevole, i compagni più o meno li conosco tutti, sicuramente si sta bene. Abbiamo passato queste due settimane, ne abbiamo ancora un'altra in modo piacevole tra di noi, quindi si lavora bene e c'è una buona coesione. Il mister sta cercando di spiegarci il suo calcio, piano piano ci arriveremo, abbiamo tanto da lavorare, ma insomma siamo tutti a disposizione per esprimere al meglio le sue idee. Sicuramente positivo, sono le prime, quindi c'è ancora tanto da dare, dimostrare, fare, provare. Quindi penso che siamo sulla strada giusta. Sì, sì, mi fa super piacere, l'affetto è ricambiato, sono legatissimo alla città, ai tifosi, alla società e mi fa solo che piacere.